Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di TheSimSea Eccoci di nuovo qui con Metal Gear Solid 2 pronti a proseguire la nostra missione che nel precedente episodio, se vi ricordate, abbiamo interrotto piuttosto bruscamente visto che era partito un countdown durante il discorso del capo dei Marine quindi non volendo perdere ulteriori secondi durante i saluti vi saluto da qui, quindi andremo a caricare la partita insieme e ci catapulteremo nella stiva, comunque dobbiamo ancora trovarlo in Metal Gear però visto che siamo lì in zona discorso, penso che siamo nel posto giusto quindi carichiamo e andiamo Eccoci qua, dai subito, bisogna scendere le scale giù, 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 veloci quanta gente c'è? Uber, quanti sono? con Ray, le cittadini, se non cittadini di Metal Gear che esistono all'interno del mondo non è più un'altra, il blind rush di proliferazione nucleare sarà contattato e sarà il Marine Corps e il nostro Ray che avvicinerà questo passerebbe passerebbe, ah, intanto ho la metterei questa ok, che non devo farmi vedere però magari qualcuno possiamo comunque sedarlo tipo questo scusa via una porta, via 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 eh, qua sono ancora di più proviamo a capire che succede? ah, hai capito, si girano una volta sono girati di qua, una volta sono girati di là in base a quale proiettore funziona quindi bisogna stare attenti ovviamente si girano dalla parte dove vado io qua c'è un'altra porta ah, c'era un altro passaggio, vuoi dire? vabbè vai, tutti a sinistra non facciamo rumore qua c'è una porta ah, si gira intorno non me lo ricordavo un'altra porta cinematica oh, che ha visto? la madonna ah, eccolo qua il macchinone qua beh, l'abbiamo trovato abbastanza velocemente dai pensavo peggio ma le foto si è lui chiamiamo un attimo ho sbagliato scusato ho sbagliato volevo chiamare otacon ok, siamo finalmente là quindi vediamo un nuovo Metal Gear si e ciò 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 vediamo il prototipo abbiamo quattro, non erano tre destra sinistra front ah, anche la scritta davanti destra sinistra è scritta eh, niente andiamo a fare le foto facciamo queste foto ma si la faccio da qui fa schifo ah, il computer è lì Sti qua adesso da non fare ginnastica? Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the army's wrecks, it can cruise deep underwater, move in undetected and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring weapons and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. I seem to be repeating myself. Talk it up to old Ed. Yes. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the Great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the mantle. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. We have intelligence that there are anti-medical weapons. We are terrorists. We are not afraid of the ship. ... Intruder to the right! Intruder to the right! Intruder to the left! Intruder to the left! No. Invece... E' un'esercitazione Quella dorme Andiamo a tre minuti Dobbiamo arrivare Al computer che è qui Speriamo che vada bene Che computer è? E' un'esercitazione E' un'esercitazione E' un'esercitazione E' un'esercitazione E' un'esercitazione E qui sta? Ok, ora abbiamo tutte le foto. Snake, il discorso è about toccato. Lassate le foto e andate da lì ora! Noi, le marini, ci saranno in un nuovo ordine con Metal Gear Reign. Questo è tutto. Dismissi. Eccellente le parole, mio amore. Chi è? Il dono di la lingua di bambino. Dicono che è la marca di un buon ufficio. Fini di un ufficio. Americani sono troppo in amore con il sonore di loro loro, per parlare la verità. Identificate. Sono Shalashaska. Anche chiamata... Revolver... Oscar. Cosa vuoi? Questa macchina sarà abbastanza utile. Cosa vuoi? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi fare? 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 Verso, come va. Cosa vuoi fare... 잘... Cosa vuoi fare tengo... Cosa vuoi fare? indietro penso che l'abbiano capito che non devono sparare e la storia che vuoi imparare il rio? vendendo le strada? ho scopato in Snezinsk, vissere come Chelyabinsk 70, la ricerca di nuocleare. cosa stai parlando? dopo la guerra inizia, il mio casa è stata portata da gli americani. ci sia un punto a questa storia sad? C'è una storia? Non lo capisci. La terra, amici, la dignità, tutti sono venduti al più alto, gli Stati Uniti dell'America. Anche la tecnologia che ha dato a queste strumenti è russi, sviluppata da noi. Cosa vuoi fare? La Russia si crescerà di nuovo. E Ray è la clave. Mi regretto di informare a te, che non ho l'intenzione di vendere Metal Gear. Come ho detto, ho venuto per la volta. Oh. Sì. Riturato. A le Patrioti. La Lale Lule Lo! Cosa è possibile? Ocelan. Tu! Hai soldi a noi? Non ero in tanti, Golukovic. Sì. 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 Io capisco che io esserlo siamo bravo con una pistola. Però ragazzi siete i 50 con i mitra. E avete una pessima mira. Ocelot! È stato un po' di tempo, ragazzi. Chi è tu? Tu sai chi che io sono. Liquid? Non più più che, eh, Snake? Tu stai dormendo in tempo. Lo so che è come, ragazzi. Non è vero che Naomi ti ha passato per il programma di Fox Dive. Fuori! Fuori dalla mia mente, Liquid! Ecco che si è trapiantato il braccio di Liquid. E Liquid lo... infastidisce. E tu sarai un altro clone morto del vecchio. Nossi materiali reali sono vintagini, ragazzi. Big Boss era in gli ultimi 50 anni quando hanno creato le loro copie. Ma io... Io vivi con questo armamento! Liquid! La porta. La porta. So, 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 so. Poi mi piace che sono tutti ingegneri aerospaziali, tutti che sanno far funzionare sto coso. E' normale che dobbiamo fare solo due foto. E' normale che dobbiamo fare solo due foto. E' con cosa l'affronto. E' con cosa l'affronto. Con la spara tranquillanti. E' molto più snello di prima. con Metal Gear. E' ecco, bravi. Se volete vi presto la spara tranquillanti. Questo. E' un'arche e frecce, non ci avete. Oh oh. C'è il'aria moltoугliato. E' appena salito? Ruggisce anche Metal Gear Adesso si scopre che fa anche il rottino magari Piccolo problema Cosa sta facendo sta saldando? No Decisamente no No Snake Anche Snake è stato sbalzato via C'è pure la coda per nuotare Pazzesco Ma vuol dimmi anche che vola Ah Snake è uscita No problem, proceeding as planned, sir Che tuffo Bene, quindi direi che se tutto va bene siamo nella merda Sì Sì Eh ma Come la ritracciamo Eh Snake Sto là un attimo E salviamo Sì 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 Quindi siamo due anni dopo Il tanker Sì 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 Due obiettivi, infiltrarti nella pietraforma Big Shell e proteggere il Presidente e gli altri ostaggi, perfetto, e disarmare i terroristi, quindi poi salvare il pianeta dall'esplosione. C'è un'esplosione? Non, Foxon resta un corpo incontro, non ti informare il loro a presenza, questo è un ordine. Questo è Sniak, ora sono dentro del strut A di Shell. Come sono le cose? Siamo in giro, sembra che non c'è nessun centri di posti qui. Qual è la visibilità? Le luci sulle strutture sono funzionano. Non ho bisogno di usare le scopole IR. Quali problemi? C'è un'altra nuova scopola che si tratta da l'olio. C'è qualcuno di me che voleva andare in male. Non è possibile. Cosa con la squadra Team 10? Ci sono arrivati sull'escalza della grande scopola come plannedi. E, pari, Snake, stiamo cambiando il tuo codename per tutti i comunicatori. Cosa è vero con Snake? Solo una precauzione. Ora sei designato Raiden. Allora, Raiden. Hai già avuto l'infiltrazione in VR. Ho completato 300 missioni in VR. Mi sento come un tipo di mercenario legendario. Ok, perderemo la parte. Assicurati che nessuno te lo vedo. Se necessitare, mi contacto con il codice. La frequenza è 1402. Non è che l'hanno trascritto bene. Ci sono un po' di cose scritte a caso. La scopola è un po' di cose scritte. Quando abbiamo bisogno di arrivare a te, contattare a te. Il codice si tratta. Quando senti questo ruolo, pressa il po' di cose scritte. Il codice di codice si tratta. Il codice di codice si tratta direttamente stimolato le piccole le nostre orecchie. Nessuno ma tu potrà sentire. Ok. Allora. 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 quindi abbiamo la tuta che ci tiene in piedi è biondo, ha i capelli lunghi biondi, vedo molto bene, ci siamo infiltrati nella Biccius con la Big Shell, due anni dopo il furto del Metal Gear da parte di Ocelot e niente, quindi direi che per questo episodio è tutto vi lascio un po' col fiato sospeso per vedere cosa succederà adesso qui con la Big Shell noi quindi ci vedremo tra pochissimi giorni con una nuova missione dobbiamo disarmare i terroristi e salvare e proteggere gli ostaggi, tra cui il presidente quindi vi aspetto come sempre numerosi qui sul canale un saluto a tutti da TheSimC e a presto